Musica Più di cento gli eventi in questa estate cannobiese. Certamente, questo sarà il nostro slogan. Quindi ogni sera un evento, dalla fine di giugno alla prima decada di settembre, ogni sera chi verrà a Cannobio, per i nostri cittadini e per gli ospiti, ci saranno eventi di vario genere, dalla musica al folklore, alle tradizioni, ai mercatini di ogni genere, insieme alle associazioni, insieme ai comitati, la sinergia tra le associazioni di categoria degli operatori del turismo, i comitati a partire da Via Magistris, l'associazione del borgo e altre associazioni del territorio, siamo riusciti a organizzare questa serie di eventi che permetteranno, io spero, di soddisfare ogni gusto dei nostri gentili ospiti. Noi crediamo sull'accoglienza, riuscire a far divertire la gente fa parte del quadro di accoglienza che noi offriamo e vi invitiamo tutti a passare l'estate a Cannobio.